Musica Eeeh, blaccio i playerini e benvenuti in questo nuovo video, come sempre io sono Tecnoid E come sentite dalla mia voce ragazzi sono ancora super ammalato In pratica playerini oggi vi volevo portare un video che ho registrato qualche giorno fa Quando ero ancora più ammalato di quanto non lo sia adesso In pratica stavo giocando a Fortnite sempre con i miei amici E dato che non stavo bene avevo deciso di non registrare Però ragazzi avete presente quando decidi di non registrare E proprio dato che non stai registrando succedono le cose più belle e più divertenti Ecco, appena mi sono accorto che stava succedendo qualcosa di davvero epico Ho subito cominciato a registrare E perciò ragazzi voi vedrete solamente la parte finale della partita Che è quella più eclatante, che è quella più bella Ragazzi spero che vi gusterete questo video Anche se sarà breve, sarà un video intenso E scrivetemi qui sotto nei commenti se volete vedere una partita intera Dove cercheremo di finirla nello stesso modo in cui è finita questa Mi raccomando guardate il video fino alla fine Lasciate un pollicione all'insù e scrivetemi se volete un video di questo genere Però stavolta completo dove ci proviamo subito già dall'inizio A questo punto direi che anche la prossima volta se sarò malato dovrò continuare lo stesso a registrare Sì 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 ho capito, ho capito, ho capito Per sicure Per sicure Guardo la situazione Troppo bello Troppo bello Eh no è tutto chiuso Ho chiuso tutto Io Adesso crepa No 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 ragazzi Ma lo voglio uccidere con la save Lo devo uccidere così Sì no uccidilo con la save senza spararli dai Dai chiudi 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 Così vediamo Oh che mi sparo Eh chiudi io non posso Eh sei tu che devi andare Dai io vado sopra la save Oh vero E che cavolo Io ho veramente uscito solo Dopo la trappola è uscito E me l'ha piazzato da solo Mamma mia è tutto chiuso No ma non ce la facciamo No no ma secondo me Guarda che pure lui Si mette lì Il top che potremmo fare è Oh mi sto spaccando il trampolino Eh l'ho visto Eh mi sa che se n'ha accorto Che c'era il trampolino Materiali per chiudere i buchi Sì 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 io ce ne ho Oh raga dopo Usate le bende Le bende dopo raga Troppo bello Oh ci cacciamo E bende è il top Ragazzi io sto guardando ma non c'è Sto controllando da Ah è nel cespuglio Non c'è un buco e gli spacco la faccia No 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 Lascialo lì Lascialo lì Lascialo lì No No basta Jack Jack non spararli Gli ho levato solo lo scudo Ok Gli ho levato lo scudo Lascialo così 96 Non spararli lupen Ok solo 33 Gli ho tolto solo 33 Eh basta cioè uno toglie 33 E l'altro coso Raga Vedate un po' di legno Ma troppo bello Guardali guardali com'è che sei chiuso È al massimo giallo il 33 Ma comunque è bianco Oh Raga chiudete i buchi Eh ho chiuso ho chiuso Un po' di legno Toh Aspetta che Attento attento State con i cosi in mano Con i tezzi Eh io sto facendo Ripara A dove spara lui No Ciao Jack Lo scaracchio è fuori safe Oh ma Oh ma lo devi aggiustare lì Aggiustalo No no Chiudete Mamma mia Aiuto Le scale Fai ripristino No No ma chi è che sta facendo le scale Porca miseria Aiuto No mi ha fatto andare giù Mannaggia Ma che schifoso Vai così così Vai in mente scale Fai la torre Mamma mia ma io di non ci credo Oh attenzione alla se Mi resta proprio qui Ce l'hai il medpack Così? Eh no C'ho solo delle bende Vabbè buono meglio Eccolo 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 Lo vedo Guarda qua Aspetta aspetta Oh sta pensando a sparare a me Mamma mia ragazzi Ok bravo Ora aspetta che credo Ecco vai Mamma mia ragazzi Mamma mia Mamma mia ragazzi Raga abbiamo gli spettatori Sette spettatori Sette spettatori Mamma mia che vittoria Oh troppo bello Troppo bello Mamma mia Troppo bello Troppo bello Una cosa così Non mi è mai capitato Peccato che mi sono messo A registrare solamente Sulla fine Però va bene lo stesso Mamma mia Che vittoria Bellissima La più bella vittoria Ma io avevo paura Che moriva perché non si curava Madonna Eh Mamma mia che vittoria Raga Spettacolare Play remake Direi che siamo arrivati Anche alla fine di questo video L'unica cosa che mi dispiace È che questa partita ragazzi La stavo facendo con i miei amici Senza registrare Però quando ho visto Che la partita Stava prendendo Una piega spettacolare Mi sono detto Qua bisogna partire Con la registrazione E vi ho registrato La parte finale Che alla fine Diciamo È quella più interessante Perciò ragazzi Mi raccomando Lasciate un pollice Non perdetevi i prossimi video Che usciranno sempre Su Fortnite Perché noi facciamo delle cose Pazzesche Delle pazzie facciamo Mi raccomando Iscrivetevi al canale Per non perdervi I prossimi video Lasciate un pollice Nell'insù Se questo video vi è piaciuto Mi raccomando Provateci anche voi E direi che per questo video è tutto Ci vediamo Al prossimo video Bella playerini